Il PNRR che è stato approvato nella precedente legislatura, dal precedente governo, non è il Vangelo. È normale che a distanza di uno o due anni si fa una verifica dei progetti che camminano e di quelli che non avevano le gambe per camminare o che hanno incontrato ostacoli insormontabili. I progetti che si ritiene di dover comunque realizzare, indipendentemente dalla scadenza temporale del 2026, che è quella che impone il PNRR, è corretto che possano essere finanziati con i fondi della coesione sempre se rientrano nelle priorità strategiche che l'Italia riconosce. Io credo che da questo punto di vista ci sia poco da aggiungere e da discutere, anzi molta della discussione che c'è in corso su questo tema la ritengo assolutamente strumentale e artificiosa.